Siamo con Antonio Masocco, possiamo dire che voi siete una new entry in questo tipo di competizione, insomma la vostra società con quante squadre e quali obiettivi vi presentate? Per quest'anno facciamo una sola squadra, abbiamo cominciato da sei mesi a fare scuola calcio su ASD Montosport, è una nuova realtà dentro il paese, abbiamo strutturato un campetto da calcetto apposta per i ragazzi, possono giocare benissimo a sette, in più abbiamo una tenso struttura dove facciamo anche tennis, facciamo altri libri di sport, diciamo è una bella realtà che grazie al Comune abbiamo messo in atto quest'anno. Insomma state partendo quindi non soltanto con il calcio ma anche con molti altri sport, che tipo di risposta state avendo lì a Maenza? Sì, i ragazzini si stanno cominciando a segnare, con la speranza che piano piano, a forza di pubblicità, di qualche cosa, perché oggi come oggi i tempi sono un po' duri, tanta gente scrive i ragazzi a una competizione, insomma ci ripensa pure.